In questo tutorial affrontiamo l'esercizio numero 6 riguardante il primo criterio di congruenza. Leggiamo il testo. Nel triangolo ABC prolunga il lato AB di un segmento BE congruente ad AB e il lato CB di un segmento BF congruente a BC. Congiungi e con F. Indica con M il punto medio di AC e con N il punto medio di EF. Dimostra che B appartiene al segmento MN, ossia che i tre punti sono allineati. Vediamo come poter dimostrare il problema. Prolungo come prima cosa il lato AB di un segmento BE congruente ad AB. Prolungo poi il lato BC di un segmento BF congruente a BC. Unisco ora E con F. Indico con M il punto medio di AC e con N il punto medio di EF. Osservo che i triangoli ABC e BEF risulteranno congruenti per il primo criterio. Questo perché BC è congruente a BF per costruzione. Inoltre AB è congruente a BE per costruzione. Ed infine questo angolo e questo angolo, ossia l'angolo CBA e l'angolo EBF, essendo opposti al vertice, sono congruenti tra di loro. Essendo congruenti i due triangoli, allora risulteranno congruenti tra di loro anche l'angolo in C con l'angolo in F. Fisso ora l'attenzione sul triangolo MCB e sul triangolo BNF. Questi due triangoli risulteranno congruenti per il primo criterio. Questo perché BC è congruente a BF. Abbiamo poi che CM è congruente ad NF, in quanto questi due segmenti sono la metà di due segmenti congruenti tra di loro. In altre parole, ricordando che il triangolo ABC è congruente a BEF, vuol dire che il lato AC è congruente al lato EF e quindi risulteranno congruenti tra di loro anche le loro metà. Ecco perché CM è congruente ad NF. Inoltre l'angolo in C è congruente all'angolo in F. Lo avevamo ricavato dal passo precedente. E allora i due triangoli sono congruenti. E di conseguenza posso dire che l'angolo CBM risulta essere congruente all'angolo NBF. Osservo inoltre che questo angolo e questo angolo sono angoli opposti al vertice e quindi la retta che passa per B ed M deve coincidere con la retta che passa per B ed N, ossia i punti M, B ed N devono essere allineati. In questo modo ho dimostrato la tesi del problema.